Spetterà il professor Giuseppe Specchia a accertare se nella condotta di 5 medici, 2 dell'ospedale di Melfi e 3 del San Carlo di Potenza, siano ravvisabili errori e negligenze che il 16 gennaio del 2012 portarono al decesso di Lucia Tessitore, una 77enne di Rapolla. A disporre l'accertamento per Italia è stato il GUP del Tribunale di Potenza, Michela Tiziana Petrocelli, alla ripresa dell'udienza preliminare. Gli indagati sono Giulia Murano, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Melfi, Adelaide e Maria Tranchese, consulente cardiologico del nosocomio della città federiciana, i cardiologi dell'UTIC del San Carlo di Potenza, Vincenzo Luzzi e Mario Pacileo e il cardiologo Rocco Aldo Osanna. Lucia Tessitore la mattina del 16 gennaio 2012 si sente male, accusando tutti i sintomi dell'infarto, un forte dolore al petto e difficoltà a respirare. Poco dopo i familiari decidono di portarla al pronto soccorso di Melfi, alla paziente viene diagnosticato un infarto miocardico. Vista la gravità della situazione, la responsabile del pronto soccorso decide di trasferire la paziente al San Carlo con l'eliambulanza, per sottoporla ad una coronografia d'urgenza. Il tutto però come scrive il PM Pannone nella richiesta di rinvio a giudizio, omettendo di praticare alla paziente una terapia trombolitica necessaria per evitare l'estensione del danno cellulare in corso. A circa due ore e mezza di distanza dal malore, la paziente viene ricoverata presso l'UTIC del San Carlo. A prenderla in carico ci sono i cardiologi Luzzi, Pacileo e Osanna, che sempre secondo la ricostruzione della procura, basata anche sulla perizia di un CTU, avrebbero ripetuto semplici esami diagnostici, anziché sottoporre immediatamente la 77enne alla coronografia d'urgenza, come già richiesto dai colleghi di Melfi. I minuti passano e le condizioni della donna peggiorano, scattano le pratiche di rianimazione, ma per la paziente non c'è più niente da fare. A quel punto i familiari di Lucia Tessitore decidono di approfondire la vicenda tramite la richiesta delle cartelle cliniche, sottoposte successivamente all'attenzione di un perito di parte, secondo il quale la paziente poteva essere salvata. Le risposte arriveranno dalla nuova perizia di un esperto attualmente in servizio presso il Policlinico di Monza.